Il fumo, il fuoco, il blackout elettrico e tanta paura. Se la sono cavata con qualche ferita o con una lieve intossicazione, sette residenti del condominio Ipioppi a Ponte Sasso di Fano, dove nella notte, fra sabato e domenica, è divampato un incendio poco dopo la mezzanotte. L'origine delle fiamme è dovuta a un cortocircuito del quadro elettrico nel semi-interrato del condominio. Le persone che si trovavano all'interno, quasi tutti i migrati senegalesi, hanno sentito un forte odore di bruciato, sono uscite nel pianerottolo e hanno visto una densa nube nera. Allertati i soccorsi, sono intervenuti i vigili del fuoco di Fano, insieme ai colleghi di Pesaro, che grazie ad un'autoscala hanno raggiunto gli appartamenti e messo in salvo le persone. Presi dal panico, invece, due ragazze hanno deciso di gettarsi giù dal balcone del primo piano, ad un'altezza di circa 5 metri, riportando, per fortuna, solo qualche contusione. Cosa hanno fatto? Hanno gettato giù anche dei materassi? Per cadere sopra, e uno ha sbagliato mira, non è caduto sul materasso. Allora si è fatto male, quello lì un po', cioè ha preso la rinsacata. Dovrebbe essere questo perché i marmi sono scesi giù, per cui prima non c'erano giù nel cortile. Secondo me, noi le dicevamo che si muovevano, rincolate lì ragazzi, non fate niente tutto il giorno, tenete in ordine la vostra casa. Quindi lei dice che la struttura è un po' in degrado? L'hanno fatto andare in degrado, perché noi di sotto che abbiamo sistemato è in ordine. Sabato notte ci sono stati attimi di apprensione anche per le bombole del gas, che sarebbero potute esplodere se raggiunte dalle fiamme. Ancora oggi, inoltre, all'interno del condominio c'era un'aria irrespirabile, sono ben evidenti i danni provocati. I muri sono anneriti, i lampadari rotti, il rivestimento in plastica del sottoscale è stato sciolto dal forte calore. La palazzina è formata da 14 appartamenti, di cui solo 7 sono occupati. Per fortuna le fiamme non hanno danneggiato i piani superiori. Parte dello stabile è stato dichiarato inagibile. Infatti, come potete vedere, i pompieri insieme ai carabinieri di Marotta hanno messo all'ingresso questo nastro segnaletico. L'intervento tempestivo dei soccorsi ha evitato conseguenze ben peggiori. I residenti, rimasti intossicati, sono stati dimessi nel giro di qualche ora dopo le cure dei medici del pronto soccorso del Santa Croce.